Ciao ragazzi, nuovissimo video unboxing Ciao 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 Scherzi a parte, comunque l'acquario ragazzi sta andando più che bene Sono molto molto contento Che cosa ho preso? Mamma mia, è davvero piccolissimo E cos'è ragazzi? Che cosa è? Un Toshiba, un hard disk da 320 GB Siccome sto facendo un PC per la casa mare Dove metterò solo musica Con mio zio, ve l'ho detto già facciamo karaoke C'è un PC assemblato insieme per un uso nostro Ho preso questo Che cos'è? E' un Toshiba Hard disk davvero piccolino Dovrei dire, piccolissimo Ma sia davvero piccolo Sono rimasto scioccato Ma, ragazzi Vediamo come va questo piccolo hard disk che neanche si vede Se praticamente nemmeno si vede Come avete visto Come avete visto Piccolissimo Ragazzicci Vediamo tra un pochettino con un altro video Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video